Complimenti per la trasmissione, non c'entra niente, ma fa anche un po' di effetto. Roberto De Laurentiis mi ha fatto un regalo, mi ha regalato una clessidra che dura 3 minuti così cerco di non andare fuori. Grazie Roberto e alla prossima. Però per metter film ai furti dei giornalini che fa dentro per i bar, ho fatto venire un 007 apposta da Milano. Guardate qui, lo ho truccato da Beppi Paia perché così passa inosservato quando va dentro per i bar. Non si nascosta nessuno, fa fatica ad andare dentro per i tavolini però passa inosservato. Dall'altro servizio ci lamentai perché ho parlato del re Natino Veronesi, dicendo che è il più bello assessore che Ghearco. Cioè non è mia certa colpa, non è mia John, chi sei? John T? John, John, del John c'è e lui le belle. Anche allora ciò vuole la sua parte. D'altronde parlare dei brutti che c'è dentro del comune, non ti farei neanche fatica perché c'è dentro una sciapata che l'è meglio lasciar perdere. Allora stavolta abbiamo due notizie veloci, vero John? Due notizie velocissime. Una è questa. Allora sul web in guarda la lancia le vacanze con il cane. Allora ti ti puoi venire in vacanza sul lac, no? E ti porti in rio il tuo cane e ti giri come ti vuoi. Il tuo nonno lascia il pur sull'autostrada, ovviamente che sull'autostrada, oppure c'è dentro nel cesso all'autogruc che è lo stesso. Però per i cagni ti fai delle passeggiate sul lungo lago che si chiama Bow Beach. Bella, proprio una bella, una bella iniziativa. L'altra notizia, la lago chi? L'altra notizia l'avevi dai nostri amici. Conosci i rivani? No. Da John 007 i rivani non ti conosci. Lecchi. Allora i rivani non è come noi che siamo paesani, che la sera facciamo i corsi di ricamo, cucito, le storie vecchie, così. Arrivano questi i fasà, gli avanti, i fasà, concorso di arabo, arabo e cinese. Allora ho pensato di scrivere il mio amico Vinicio. Lui piace sempre andare a mangiare sui cinesi, però si sbaglia sempre a fare l'ordinazione e vieni sempre a casa e fa male come lui. Allora, forse imparerà qualcosa e la prossima volta quando va lì, ci vuole lì, cercherà di dire dammi una cosa che riesce a capire che vado a casa a cena. Faccio anche il regalo di Roberto De Laurentiis. Allora, l'ultima notizia è questa che mi ha passato l'editor. mi ha detto, mi ha detto, guarda che da quando sei su YouTube, mi ha visto in Polonia, in Inghilterra, a Hong Kong, in Italia, in Stati Uniti e in Spagna. Ti guarda i parenti qui, i posti lì? Tre. Allora ti voleva vederti. E non ti guardi neanche l'altra volta e ti guarda lo stesso. Allora, ciao a tutti, Beppi. Fem, guarda, è il mio bicicletto, è il mio bicicletto, è il mio bicicletto, è il mio bicicletto, guarda, stavolta la cambiamo in merlotte, da fare salute a Telegarda Trentino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.